La rosa creazioni d'arredo, tendaggi d'autore. L'azienda artigiana si occupa di creazioni tessili d'arredo di alta qualità. Presso lo showroom troverete tendaggi, tessuti e accessori. Si realizzano salotti su misura e si ritappezzano o modificano imbottiti di ogni stile e modello. A disposizione una vasta scelta di tende, copriletti e biancheria per la casa, tappeti e creazioni tessili artigianali, tessuti per l'arredamento coordinabili anche con carta da parati, passamanerie, accessori per interni, tende tecniche e tende da sole G-Bus.